Abbiamo giocato una partita con più energia di noi, non siamo stati bravi a proteggerci il rimbalzo difensivo, abbiamo concesso troppi, tutti i palloni vaganti li hanno presi loro, hanno avuto più energia, hanno avuto più reattività, ci hanno sicuramente disturbato con una velocissima pressione difensiva, nonostante questo abbiamo chiuso, ero molto ottimista che abbiamo chiuso il secondo quarto solamente a meno 6 e purtroppo i primi 5 minuti del terzo quarto siamo andati a meno 12, abbiamo sbagliato due tiri facili, abbiamo concesso due canestri anche lì dall'imbalzo d'attacco hanno avuto più reattività, più forza fisica di noi e quel gap secondo me ridotto abbastanza bene all'inizio, non siamo stati più riusciti a colmarlo Sì sì, sono stati bravi ad aggredirci, sono stati bravi ad aggredirci, sono stati bravi al rimbalzo d'attacco abbiamo perso troppi palloni e quando tu peri troppi palloni poi non riesci a gestire il ritmo è esattamente quello che chiedevo io al terzo quarto tempo di gara 1 che è stato fatto benissimo invece in questa partita non siamo riusciti Sicuro, torniamo ad Avellino, avremmo firmato prima dell'inizio di andare ad Avellino su 1-1 poi è chiaro che quando tu guardi 1-0 ti viene la golosità di andare a casa tua col 2-0 però intanto abbiamo rivoltato il fattore campo, adesso sta in tutta la forza della squadra mia, del pubblico, del nostro palazzo per far vedere se riusciamo a mantenere soprattutto la prima delle due gare se riusciamo a mantenere la vittoria ad Avellino e soprattutto se riusciamo ad avere tanta energia come l'abbiamo avuto in gara 1